Musica Furto alla libreria Paolini e Bottino da 1500 euro La settecentesca chiesa di San Sebastiano a lavaggio rosso danneggiata dal maltempo 200.000 euro per la messa in sicurezza Ministri straordinari questa mattina il rinnovo del mandato nel salone da Pozzo la cerimonia presieduta dal Vescovo Il Grand Hotel Porto Venero tiene la quinta stella, è il primo in tutta la provincia spezzina Dopo la capolista lo spezia costringe al pari anche il Frosinone, allo stilpe decidono due rigori Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Liguria Sud Apriamo questa edizione con la cronaca perché si è verificato un furto questa notte nella libreria Paoline Un ladro si è introdotto nel negozio di via Portarocca dopo aver sollevato la saracinesca e aver aperto un varco nel vetro Il furto ammonta circa 1.500 euro in contanti È stata fatta denuncia dalla polizia e è intervenuta anche la scientifica per i necessari rilievi Ci spostiamo nel comune di Levanto, la chiesa di San Sebastiano a Lavaggio Rosso, appunto una frazione del comune rivierasco È stata danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi Il comune, la sovrintendenza e la diocesi si sono subito attivati per la messa in sicurezza Vediamo il servizio di Sergio Diofi L'ondata di maltempo che ha colpito la Val di Magra e la Riviera due notti fa Non ha risparmiato un edificio sacro e dall'alto valore storico e architettonico Come la chiesa di San Sebastiano che si trova nella frazione di Lavaggio Rosso in comune di Levanto Molto probabilmente un fulmine che si è abbattuto sul campanile Ha causato il crollo di parte della cupola e lo sfondamento del tetto Con i detriti finiti sulla navata, il presbiterio e la sagrestia L'area è stata resa inagibile mentre la stessa frazione di Lavaggio Rosso è rimasta isolata In quanto le macerie avevano invaso l'unico accesso alla strada situato proprio sotto la chiesa Il comune di Levanto si è subito attivato con la sovrintendenza ai monumenti della Liguria E con la diocesi della Spezia, Brugnato e Sarzana Per far ripristinare la parte crollata e chiedere i necessari finanziamenti La diocesi ha appaltato i lavori in somma urgenza per un importo di 200.000 euro Per mettere in sicurezza e limitare il rischio nella zona prospicente della strada Oltre alle opere per la messa in sicurezza della Torre Campanaria Ha detto Augusto Marchioni, architetto incaricato dalla Curia La chiesa di San Sebastiano è un edificio dall'importante valore storico risalente al 700 Il cui impianto è rappresentato dalla classica architettura Ligure con il tetto in Ardese E la Torre Campanaria molto slanciata con la cupola Si sospenda il taglio di 19 pini in via San Francesco e si riconvoca il tavolo del verde Lo chiedono Legambiente Liguria e Italia Nostra Legambiente precisa che la discussione avvenuta nel tavolo del verde nelle scorse giornate Ha riguardato anche il filiare di via San Francesco Ma non è arrivato ad una formale condivisa decisione finale sull'ineluttabilità di quanto si farà prossimamente Non vorremmo, prosegue la nota di Legambiente, che l'amministrazione comunale scambiasse la disponibilità A discutere e sedersi ad un tavolo con assenso Ricordiamo infatti che il taglio dei pini è previsto per lunedì prossimo Torniamo alla cronaca per una notizia che è arrivata in redazione Si tratta di un'altra rapina, questa volta attentata E' accaduto nel centro storico questa mattina in via dei Mille Un uomo incappucciato e armato di coltello è entrato all'interno di un locale Con l'intento di farsi consegnare i soldi della cassa Il gestore del bar, un cittadino di origini cinesi, avrebbe però cercato di chiamare aiuto a gran voce A quel punto il rapinatore spaventato si sarebbe dato alla fuga Sul posto è intervenuta la polizia che sta ovviamente procedendo con tutte le necessarie indagini La comunione eucaristica può essere distribuita ai fedeli Oltre che dai sacerdoti e dai diaconi, anche dai ministri straordinari Ovvero uomini e donne che dopo una adeguata preparazione ricevono il mandato dal Vescovo Mandato che deve essere però rinnovato ogni tre anni E' quanto è avvenuto questa mattina nel Salone da Pozzo della Curia a Vescovile Nel corso di una cerimonia ovviamente presiduta dal Vescovo Vediamo Il ministro straordinario dell'eucaristia è quella figura prevista dalla Chiesa Per aiutare i sacerdoti nella distribuzione dell'eucaristia In particolari circostanze Quando assemblee eucaristiche troppo numerose non consentono Se non prolungando a lungo la distribuzione dell'eucaristia E quindi è necessaria una collaborazione ulteriore Oppure, è il caso più frequente, per portare la comunione ai malati Quando i ministri ordinari della distribuzione dell'eucaristia Cioè i sacerdoti e i diaconi sono impediti per altre ragioni pastorali E quindi una figura preziosa Ma non solo di supplenza per una carenza di sacerdoti o di diaconi Ma anche un invito a riscoprire la ministerialità della Chiesa Una ministerialità che si può esercitare proprio in virtù del sacerdozio comune Ricevuto per il nostro battesimo Il Vescovo ha voluto consegnare il mandato a numerosi ministri straordinari Che operano nelle varie comunità della diocese Lo ha fatto con una semplice cerimonia Nel salone da pozzo della Curia Vescovile della Spezia Ma chi sono questi ministri straordinari e qual è il loro compito? I ministri straordinari così come li definisce la Chiesa E li istituisce la Chiesa Sono laici o religiosi che non abbiano ovviamente il sacramento dell'ordine E che vengono, ai quali viene conferito questo ministero temporaneo Perché ovviamente è un ministero straordinario Di poter portare la comunione ai malati E di affiancare il sacerdote lì dove può esserci una necessità Per esempio o per la malattia del sacerdote Che gli impedisce di muoversi così In modo direi più snello per andare a dare la comunione Oppure anche per un afflusso molto grande di fedeli Sono proprio straordinari perché non sono loro direttamente Ma vengono in aiuto in questi casi particolari Dunque un ministero importante Ma è solo un ministero di supplenza? È un ministero che in un certo modo certamente supplicce Però nello stesso tempo integra anche tutti gli altri ministeri Perché fa comprendere quanto sia importante il ruolo anche dei laici O dei religiosi che non abbiano ricevuto il sacramento dell'ordine Anche in un compito così importante Che è proprio quello di portare addirittura l'Eucharistia Dunque il corpo vivente, la presenza vivente del Signore Gesù Vediamo ora come ogni sabato quali sono le principali notizie Che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire Radicati nella fedeltà Il Vescovo ha ordinato domenica scorsa nella Cattedrale di Cristo Re alla Spezia Tra i nuovi sacerdoti Questa è la speranza di ogni pastore e di ogni fedele Rallegrarci perché i nostri nomi sono scritti nei cieli È un estratto dell'omelia pronunciata dal Vescovo nel corso della cerimonia E parliamo ora di un'altra ordinazione sacerdotale In questo caso la cerimonia avverrà domenica prossima nella Cattedrale di Massa Diventare il sacerdote Maurizio Marchini Il direttore del Museo Diocesano di Sarzana Attualmente diacono permanente che appunto diventerà sacerdote E a fondo pagina l'allerta di un campanile ferito I cambiamenti climatici riguardano anche la Liguria L'antica chiesa di Lavaggio Rosso lo conferma Appunto danneggiata dall'ultima ondata di maltempo A fianco attacchi di panico nei giovani Un incontro aiuta a curarli Studi recenti mostrano come questi disturbi siano in continuo aumento E ancora di più lo siano tra i giovani Queste le principali notizie che potrete leggere domani Sul inserito spezzino del quotidiano cattolico a venire Per Alfie la sua famiglia e per tutti i bambini che rischiano o che sono già stati uccisi Perché la loro vita viene considerata inutile come detto testualmente dal giudice inglese Hayden Sono queste le intenzioni del rosario che è stato recitato questo pomeriggio in Piazzetta del Bastione Alfie Evans è un bimbo di due anni di Liverpool affetto da una malattia non conosciuta La sua vicenda è simile a quella del piccolo Charlie Gard I medici dell'ospedale di Liverpool che hanno in cura il piccolo Alfie Si sono rivolti alla magistratura per poter saccare il ventilatore e quindi uccidere il bambino Il tribunale inglese ha dato loro ragione Il padre di Alfie ha cercato giovedì sera di portare il proprio figlio fuori dall'ospedale Dove lo attendeva un'equip di medici e un'eli ambulanza per portarlo all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma È stato però bloccato dalla polizia davanti all'ospedale Quindi si sono ritrovate oltre 2000 persone che hanno vegliato pacificamente fino a tardanotte Quando è stato chiaro che il bambino non sarebbe stato rilasciato dall'ospedale Un'altra veglia è prevista per questa sera a Liverpool E alla preghiera appunto si è unita questo pomeriggio anche la Spezia Cambiamo argomento, parliamo di economia Il mercato del lavoro in Liguria è ancora in leggero ritardo Verso la marcia dall'uscita del tunnel della crisi Gli ultimi dati Istat elaborati dall'ufficio studi confartigianato Mettono in luce un recupero rispetto agli anni più bui Che dopo essersi pressoché stabilizzato negli ultimi tre anni È ora distante 1,2 punti percentuali dai massimi precrisi del 2008 Quando il tasso di occupazione in Liguria era del 63,6% Nel 2017 invece si è attestato al 62,4% Secondo l'analisi soltanto sei regioni italiane Registrano oggi un tasso di occupazione superiore a quello di 10 anni fa A livello provinciale a soffrire meno è Genova Segue Savona e poi la Spezia Dove nel 2017 il tasso di occupazione è stato del 63% Si è svolto questa mattina nell'aula conferenze della CNA della Spezia A cura di Automotive Global Service un incontro formativo per gli autoriparatori Sul tema dell'assistenza dei cambi automatici dai robotizzati alla doppia frizione L'andamento del mercato infatti si sta sempre più indirizzando verso l'automatizzazione E l'aumento dei cambi automatici nelle autovetture Porterà sicuramente all'interno delle autofficine l'obbligo di nuove competenze Il corso ha fornito tutte le nozioni per poter intervenire appunto sui cambi automatici Grande successo per la 32esima edizione della Conferenza Europea della Società per i Cetacei Che ha portato alla Spezia 5 giornate di studio dove si sono confrontati quasi 600 scienziati Da sottolineare come alla buona riuscita della manifestazione Abbiano contribuito gli enti locali spezzini dal comune all'autorità portuale fino a Confindustria Vediamo il servizio di Laura Ivani e Sergio Diofi Tema centrale della 32esima Conferenza Europea della Società per i Cetacei Che si è svolta nei giorni scorsi alla Spezia È stata la partnership tra la comunità scientifica e le istituzioni locali e di sviluppo produttivo Che insieme devono collaborare quindi interagire per cercare di tutelare il mare e il santuario dei Cetacei Tra i protagonisti anche l'autorità portuale e Confindustria L'autorità portuale come voi saprete copre vari settori dall'acquacultura, dall'ostricoltura, dall'umolluschicoltura Oltre al porto commerciale naturalmente il porto passeggeri, la nautica, da di porto eccetera Sono tutte attività che possono comunque evolversi e in parte alcune di esse possono anche creare dei problemi, dei disagi Ma l'autorità portuale e l'autorità di sistema portuale del Mar Ligone Orientale naturalmente cerca di andare di pari passo con quello che è la sostenibilità L'evoluzione della sostenibilità, degli strumenti per rendere sempre più compatibili le attività anche impattanti come possono essere quelle del porto commerciale Con la realtà che ci circonda, quindi con il mare e con l'ambiente circostante Anche Confindustria parte attiva di queste importanti giornate per la città, per il territorio e naturalmente per il santuario dei cetaci Noi abbiamo già da tempo rapporti con Neolabor Institute e la dottoressa Eleuteri perché ci ha permesso di conoscere questo loro progetto di Water Revolution che è molto interessante perché permette di valutare l'impatto ambientale che qualunque attività economica ha è nato in particolare per l'attività dei cantieri nautici e quindi ovviamente è un modello che abbiamo sposato e che cerchiamo di mettere a disposizione di tutte le aziende interessate a partire ovviamente da quelle più grandi che potrebbero fare un po' da stimolo anche le altre a utilizzare questo modello che quindi deve portare a ridurre l'impatto ambientale sia delle produzioni che del prodotto che esce dai cantieri Compie oggi 90 anni Aldo Giacchè, ex sindaco della Spezza e senatore della Repubblica Ad Aldo Giacchè ha voluto rivolgere i propri auguri il deputato Andrea Orlando Aldo è stato per tutti noi un esempio di rigore, coerenza e di metodo nell'analisi politica e nella lettura dei fatti Ho avuto il privilegio di lavorare con lui e perché no di essere oggetto delle sue critiche anche aspre ma sempre puntuali Mi sento di dovergli molto come credo che a lui debba molto la crescita democratica della nostra città Abbiamo di recente fatto scelte diverse ma non posso che augurarmi che la ricostruzione di un percorso unitario nel centro-sinistra ci veda ancora a discutere e lavorare insieme Auguri Aldo, buon compleanno per i tuoi 90 anni, auguri ai quali ovviamente ci uniamo come tutta Tele Liguria Sud E compierà 90 anni invece lunedì prossimo, 16 aprile, Umberto Bellaviglia e il partigiano Williams L'Istituto Fossatti da Passano e l'Associazione Culturale Mediterraneo hanno deciso di dedicargli una festa che si terrà nella biblioteca dell'Istituto giovedì 19 aprile a partire dalle 10.30 A festeggiare William ci saranno i familiari e gli amici, gli studenti, gli insegnanti il preside Paolo Manfredini e Giorgio Pagano, presidente dell'Associazione Culturale Mediterraneo e coautore con Maria Cristina Mirabello del libro Sembenche Siam Donne e Resistenza al Femminile nella quarta zona operativa tra la Spezia e l'Unigiana e Pagano appunto racconterà la storia di William raccolta invece in un altro suo libro Eppur Bisogna Ardir e anche delle donne combattenti durante la resistenza Passiamo ad un altro appuntamento Massimo Sestini, uno dei più grandi fotogiornalisti italiani presenterà le sue immagini per la prima volta alla Spezia L'evento ad ingresso libero organizzato dall'Associazione Fotografica Liberi di Vedere si terrà lunedì 16 aprile dalle 21 nella Mediateca regionale Sergio Fregoso Da Alicio Gelli ripreso a Ginevra mentre veniva portato in carcere all'attentato al rapido 904 nella galleria di San Benedetto Val di Sambro fino alle foto dall'alto degli attentati a Falcone e Borsellino e poi le operazioni di salvataggio Mare Nostrum a largo delle coste libiche Dopo 12 giorni di tempeste Massimo Sestini riuscì a riprendere dall'elicottero un barcone di migranti tratti in salvo Quella foto gli valse il World Press Photo nel 2015 Questo solo per citare alcuni degli scatti diventati più famosi del celebre foto giornalista Il Grand Hotel Porto Venere è il primo albergo a 5 stelle della provincia spezzina Ieri i festeggiamenti per appunto il riconoscimento della Quinta Stella Vediamo Consegnata la Quinta Stella al Grand Hotel Porto Venere prima struttura extra lusso della provincia della Spezia L'albergo è un ex convento francescano del 600 e propone tour legati alle produzioni locali come quello all'isola Palmaria dedicato alla coltivazione delle ostriche Offre anche esperienze tra i pescatori del golfo, gli artigiani e i vignaiuoli delle Cinque Terre Dieci anni fa quando ho comprato questo immobile la ragione era di fare un business per averlo rivenduto perché magari era un buon affare Dieci anni fa lo era meglio di adesso Poi sono venuto a Porto Venere più di una volta e ho buttato via la mattita, ho fatto i conti del più e del meno e prevalso il cuore il cuore mi ha conquistato un posto così meraviglioso non ho potuto fare almeno di dire guadagno o perdo ma voglio fare un qualcosa per questa città che merita, veramente merita di fare un qualcosa La messa a sistema di un'offerta di intrattenimento per i turisti che coinvolga il territorio è un'azione che sosteniamo con forza ha detto l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino presente con il collega all'ambiente Giacomo Gianpedrone Avere un 5 stelle nel nostro comune è un risultato fantastico gli ha fatto eco il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani una struttura di qualità attesa da tempo e richiesta dai cantieri navali spezzini per l'accoglienza dei clienti Per la stagione 2018 ha annunciato il direttore della struttura Antonio Polesel sono in arrivo nuove suite e una veranda ristorante affacciata sul mare Lunedì prossimo alle 17 l'associazione Lericipea e Amici dell'Ericipea in collaborazione con il Museo Civico Etnografico Giovanni Podenzana presenta il volume della poetessa Silvia Arfaioli dal titolo L'impronta della balena edito da Gorà a cura di Pia Spaggiari ovviamente tutta la cittadinanza è invitata a partecipare La Commissione Sentieri e Cartografia del CAI della Spezia che da anni contribuisce con i propri volontari al censimento e alla manutenzione della rete sentieristica del nostro territorio si è fatta promotrice di un progetto biennale di alternanza scuola-lavoro che sta coinvolgendo alcune classi dell'Istituto Cappellini Sauro Dopo quattro incontri di approfondimento teorico sta per iniziare la seconda fase del progetto che prevede uscite pratiche sul sentiero delle mura per mapparlo e individuare i punti di interesse storico, culturale e ambientale Nei prossimi mesi, poi a conclusione del lavoro di approfondimento e ricerca svolto anche nelle biblioteche della città sarà prodotta una cartina con allegato il materiale elaborato dai ragazzi Cambiamo pagina apriamo la pagina dedicata allo sport lo facciamo con il basket parlando di due partite che si giocheranno domani il campionato è quello di Serie C Silver maschile e siamo alle partite conclusive della fase a girone dei play-off domani alle 18 entrambe in casa giocheranno sia la Tarros che il Sarzana per la Tarros impegno al palla sprint contro l'Aurora Chiavari per il Sarzana impegno anche in questo caso in casa interno quindi contro Ospedaletti palla a due in entrambi i casi alle 18 e parliamo ora invece di calcio vediamo quelli che sono stati i risultati della 35esima giornata del campionato di Serie B Foggia Ascoli 3 a 0 Parma Cittadella 0 a 0 Brescia Carpi 1 a 1 Empoli Provercelli 3 a 2 Frosinone Spezia 1 a 1 Novara Ternana 0 a 3 Palermo Cremonese 1 a 1 Perugia Venezia 1 a 1 Pescara Bari 2 a 2 Salernitana Cesena 1 a 1 1 a 1 anche tra Virtus Entella e Avellino vediamo allora la luce di questi risultati quella che è la nuova classifica del campionato di Serie B che vede sempre in testa l'Empoli ha quota 70 punti seguono Palermo e Frosinone 59 Parma 57 Bari 55 Perugia 54 Venezia e Cittadella 51 Foggia e Carpi 49 Spezia 47 Salernitana 43 Cremonese e Brescia 42 Avellino 40 Novara e Pescara 39 Cesena 38 Virtus Entella 37 Ascoli 36 Ternana 33 Chiude a 31 punti la Provercelli Lo abbiamo visto quindi dai risultati a Frosinone è finita la partita 1 a 1 tra Frosinone e Spezia uno Spezia quindi che dopo aver fermato la capolista Empoli costringe al pareggio anche il Frosinone che come visto dalla classifica è una delle formazioni d'alta quota di Vetta a decidere il match sono stati i due rigori il primo al tredicesimo segnato da Dionisi il secondo quello che è valso il pareggio porta la firma di Pessina per lo Spezia appunto ed arriva in Estremis in piena zona recupero al 93 ma ci racconta la partita Enrico Lanzeri Finisce 1 a 1 al Benito Stirpe tra Frosinone e Spezia due rigori uno al tredicesimo del secondo tempo segnato da Dionisi per un fallo di mano in area di rigore di Gianni in area di rigore dello Spezia dall'altra parte al 93esimo è ancora Pessina a pareggiare proprio su calcio di rigore molto freddo il giocatore di scuola Milan ma adesso di proprietà dell'Atalanta che mette nell'angolino opposto da dove si butta il portiere un calcio di rigore concesso per una trattenuta anzi un paio di trattenute sospette in area di rigore dei Ciociari è stata una gara dominata praticamente quasi nel primo tempo dagli uomini di Fabio Gallo che sono riusciti ad ingrigliare un Frosinone molto contratto che non riusciva ad esprimere il suo gioco Spezia che andava vicino al gol in un paio di colisioni soprattutto con un colpo di testa su calcio piazzato da parte di Pessina la palla colpiva la parte inferiore della traversa ma rimaneva in campo quindi Spezia che poteva andare in vantaggio nel primo tempo il Frosinone rediva solamente con una conclusione da lontano di Dionisi secondo tempo dove i Ciociari prendono campo cercano di chiudere lo Spezia nella propria metà campo non ci sono state grossissime occasioni ma alla prima appunto il rigore appena descritto il fallo di mano di Gianni che viene anche ammunito dall'arbitro sia lui che terzi mancheranno entrambi ammuniti mancheranno nella gara di martedì Casaliga contro il Brescia Spezia che fatica un attimo a reagire ma il mister inserisce prima Palladino poi Mulattieri insomma tutti in avanti il Frosinone può farmare in contropiede ma la difesa Spezia riesce a chiudere sempre e nel finale arriva il pareggio appunto su rigore appena descritto con Pessina un punto che mantiene ancora in vita la speranza pre-off dello Spezia che martedì appunto affronterà il Brescia in casa al picco alle ore 20.30 e proseguiamo con un altro risultato riguarda il basket perché si è appena conclusa la partita disputata dalla Credita Agricola Cari Spezia sul campo della Molisana Campobasso siamo nel campionato di basket di serie A2 femminile le Spezzine vincono 45 a 57 riprendono quindi subito il cammino dopo la battuta d'arresto nel turno infrasettimanale contro il Palermo e passiamo ora in chiusura a vedere le previsioni meteo per la giornata di domani una giornata che vedrà ancora al mattino un cielo parzialmente nuvoloso questo soprattutto nell'interno con transiti però di velature anche lungo la costa progressivo aumento della nuvolosità che si farà bassa e densa sui versanti padani e irregolare nelle zone costiere dal pomeriggio quindi un rapido peggioramento e non si esclude in serata qualche debole pioggia il mare sarà molto mosso a ponente localmente agitato a largo le temperature oscilleranno tra una minima di 13 e una massima di 21 gradi con il meteo come sempre si chiude il nostro telegiornale a me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata grazie arrivederci a